Margherita Grambassi, una chiacchierata per scoprire intanto chi sei e soprattutto quali sono state le tue più grandi vittorie e le più grandi soddisfazioni. Ciao a tutti, come hai detto appunto mi chiamo Margherita Grambassi, ho fatto tantissimi anni di scherma, ho fatto parte della nazionale italiana e con la maglia azzurra ho vinto due medaglie olimpiche, due bronzi a Pechino e sono stata campionessa del mondo sia a livello individuale che di squadra. Beh insomma non è una campionessa così, è una campionessa che si è fatta veramente valere e che ha portato il nome dell'Italia nel mondo, intanto grandissimi complimenti perché ovviamente l'amor di patria ci fa amare qualunque sport, qualunque persona che porti appunto il colore, il tricolore in giro nel mondo. Quali sono le emozioni che si provano in quel contesto? Io credo che il cuore impazzi in quei momenti. Sì sicuramente, non soltanto il cuore, infatti è molto difficile riuscire a trasmettere agli altri quell'emozione a parole e noi lo facciamo soprattutto con dei gesti, spero, spero che i gesti arrivino alle persone e cercando di così far capire con la nostra passione tutto quello che abbiamo provato negli anni in cui abbiamo vestito la maglia della nazionale. Raccontarti cosa si prova è veramente difficile, però sicuramente sono momenti indimenticabili che ti restano nel cuore per una vita e appunto come dicevo prima sarebbe bello riuscire a condividerli con tante persone. Ma come ti sei avvicinata alla scherma? Io mi sono avvicinata in una maniera non particolarmente originale, nel senso che sono l'ultima di quattro figli e i miei fratelli avevano iniziato a fare scherma e io volevo copiarli, volevo fare tutto quello che facevano loro. Scommetto che loro non hanno vinto neanche una medaglia. No, sono stati bravini a livello nazionale, però poi hanno fatto altre scelte, hanno smesso e... La sorella li ha battuti tutti, è già, è già. Però sono stati i miei tifosi principali sicuramente.